Le preoccupazioni di un reale e pericoloso inquinamento dell'ambiente hanno portato alcuni cittadini a manifestare a San Vittore del Lazio, proprio nei pressi del termo combustore. In tutto circa 150 insieme ai sindaci dei comuni che insistono nella zona, in quella fascia di territorio che corrisponde alla bassa provincia di Frosinone e l'Alto Casertano. Anche i rappresentanti delle associazioni da sempre impegnate nella difesa dell'ambiente e a denunciare tutti i pericoli a cui sono esposte le popolazioni della zona. Italia Nostra, Fare Verde, il Comitato per la trasparenza sull'inceneritore di San Vittore del Lazio, il Comitato per la tutela dei territori del Cassinate, Bassolazio e Ciociaria, Ciociaria Terra dei Veleni e Lampana. Già stiamo dando quello che dobbiamo dare e anche di più e non vogliamo altro inquinamento, ma bensì ci aspettiamo invece che vengano proposte energie rinnovabili e altri tipi di investimenti volte alla messa in sicurezza di questi territori martoriati e la cronaca è piena di queste notizie. Una manifestazione pacifica per dire no alla realizzazione della quarta linea di incenerimento del termocombustore di San Vittore del Lazio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente circostante. Già compromessa da numerosi anni le cui ulteriori emissioni andranno a impattare sui territori in modo gravissimo provocando danni da inquinamento della terra, dell'aria e dell'acqua. Gli effetti saranno sicuramente proporzionali perché più è grande il termocombustore e in proporzione emetterà più sostanze nell'aria. Tra parentesi, durante i vari interventi dei sindaci che si sono susseguiti, la provincia di Frosinone è praticamente nell'arco della legge che prevede che tutte le province siano autonome del ciclo di smattimento dei rifiuti. La provincia di Frosinone già provvede a se stessa, quindi autonoma, e in più riceve rifiuti da altre province del Lazio. A rischio quindi la salute di migliaia di persone e territori che registrano incrementi di patologie oncologiche, polmonari e cardiovascolari. Assolutamente sì, abbiamo dati sconfortanti circa patologie legate alle micropolveri, quindi tumori ai polmoni e altre patologie legate sempre a questo tipo di inquinamento aereo. Quindi assolutamente la popolazione è preoccupata e la risposta è stata anche per questo buona. Ci auspichiamo comunque che ci sia sempre più presenza e coinvolgimento delle persone.